... ... ... ... Quindi, piano piano, piano piano, riusciremo a scavare anche noi qualcosa, a cambiare le linee. Ecco, un altro ascoltatore dice, ma insomma, rispetto alle sue slanderano, erano in pochi, e poi c'è... Prende, dice Francesco da Padova. Esageriamo, eh. È stato un paese che ha fatto anche un esperimento di governo di sinistra, aperto a... ... ... ... Sempre del territorio, sale, pepe, quanto è basso, è della mortica. ... Come down in the valley, where Mr. Winder is, they bring you up to do, like your daddy's are, me and Mary, we met.